Il mistero della recompra torna prepotentemente nell'attualità dell'U.S. Avellino 1912. A riportarlo in auge è stato il comunicato stampa con il quale il presidente del sudalizio bianco-verde Luigi Itzo ha fatto finalmente sentire la sua voce dopo giorni di silenzio e riflessione. Itzo ha preferito far esplodere la bomba al termine del calciomercato a suo dire per non dare alibi ad alcuno. Nella nota il presidente scrive testualmente Il mio silenzio è stato necessario perché a differenza di altri mi sento responsabile di quanto sta accadendo e quindi la mia responsabilità mi ha obbligato a cercare una soluzione forte, duratura ma soprattutto radicata al territorio. Siamo alle battute finale, credo di esserci riuscito. Con una precisazione però. Solo due problemi ci separano dal traguardo, scrive. Quali sarebbero questi ostacoli è presto detto. Il primo è la cifra da corrispondere a Nicola Circelli per farsi da parte. Insomma che lo stesso Itzo definisce come esigua facilmente risolvibile in qualsiasi momento poiché è corrispondente a quanto investito finora. La seconda, in base a quanto scrive il presidente, è più complicata ma risolvibile. Da qui l'accusa. L'amministratore, si legge, dovrebbe spiegare come può aver sottoscritto un accordo all'atere della vendita che di fatto a semplice richiesta la società Calcio Avellino potrebbe rientrare in possesso del vecchio proprietario o in alternativa pagare una penale di non poco conto. Insomma, Itzo rivela che Circelli avrebbe fatto un accordo, una scrittura privata con De Cesare in gran segreto senza l'assenso del socio. Un accordo che di fatto faciliterebbe la ricompra complicando il percorso della IDC. Scenario differente dalla semplice call annunciata tanto nella manifestazione di interesse palesata dalla IDC il 27 ottobre quanto nella proposta d'acquisto del 5 novembre. Un passaggio che agevolerebbe De Cesare nonostante il momento di difficoltà che sta vivendo l'imprenditore napoletano. Perché ciò è accaduto? Non è dato saperlo. Il presidente Itzo ha ormai rotto il silenzio. Si attendono dunque altre risposte ed altri scenari liberi da misteri, finalmente fitti di chiarezza e trasparenza.